salve a tutti in questo video vedremo come si installano il codec del multimediale in open susa sia lipp che tumbleweed i comandi sono gli stessi allora incominciamo col dire una cosa importante che le installazioni di lipp e tumbleweed non possono contenere il codec del multimediale perché sono codec proprietari e la distribuzione vuole essere compliant con l'autore soprattutto negli stati uniti però noi abbiamo la possibilità di aggiungere un riposo di esterno che farà il lavoro sporco per noi cioè pacman allora basta aprire il terminale allora adesso aprirò il terminale eccolo qua apriamo un attimo ingrandiamo il terminale in modo che si capisca si lega meglio cosa scriverò basta installare un programmino che si chiama opi che cerca su obs che non è obs studio ma è obs il nostro server dove ci sono tutti i repository perché su open susa abbiamo la possibilità di compilare i nostri software direttamente su un server web ok però questo è un altro argomento che non ci interessa allora il programma che si usa per fare le installazioni si chiama viper quindi sudo viper in opi e significa installami opi questo comando password ovviamente migliora che ce l'ho già perché io c'ero già installato ok dopo non si può più di per di per installare qualcosa ma si cerca con opi opi e il pattern da installare si chiama codex codex io vuoi installare i codex da reposto di pacman come dicevo prima yes si va avanti e a voi vi dirà sì che ha trovato il reposto che lo deve installare e vi suggerisce da tutto voi fate sempre sì sì e andate avanti installate tutto verranno installati dei pacchetti con tutti i codex proprietari e non e anche vlc con il vlc codex i suoi tutti funzionanti e soprattutto dentro a pacman c'è anche obs studio perché obs studio al suo interno contiene il codex per la gpu invidia per esempio che sono cose proprietarie quindi non potrete installare obs studio se prima non avete è aggiunto con opi pacman quindi dovete fare codex installa il reposto di pacman vi mette tutti i codex generici più vlc eccetera eccetera poi potete fare sudo zipper in obs studio e ve lo installa ok quindi per capirsi da parte codec multimediali è sempre su pacman avete visto che sono praticamente due comandi stupidissimi questi comandi funzionano sia per leap che per tumbleweed e soprattutto negli aggiornamenti il software nel codex si aggiorneranno da soli non c'è altro da farvi vedere per questo video tutorial è tutto